Si svolgerà il 31 maggio e il primo giugno al Parco della Scienza di Teramo la settima rassegna provinciale scuole ad indirizzo musicale. Devo dire che le nostre scuole, lo dico con orgoglio, hanno un'offerta formativa didattico-pedagogica eccellente, ma in più fanno tantissime attività culturali proprio al di là delle ore curriculari. Questo gli fa onore perché è importantissimo. Oggi come oggi una scuola si deve mettere proprio sul mercato educativo. C'è una sana competizione tra una scuola e l'altra. Alcune scuole nostre hanno questo indirizzo musicale, tra cui la Zippilli, devo dire che è stata una delle prime a fare queste attività, lo realizza con grande capacità. Devo dire, questo anche grazie al loro preside, al professor Di Luciano, sempre molto sensibile a queste attività. Noi come città di Teramo siamo vicini a tutte le scuole che vogliono aumentare l'offerta formativa, dandogli un supporto non economico, devo dire, ma logistico. Loro hanno chiesto il Parco della Scienza e noi ben felici l'abbiamo messo a disposizione, anche patrocinando questa manifestazione. Ad esibirsi saranno gli studenti di otto scuole ad indirizzo musicale della provincia Teramana. Parteciperanno inoltre alla manifestazione alcuni gruppi musicali provenienti da altre scuole del territorio abruzzese, nelle quali l'esperienza musicale scolastica ha assunto un ruolo rilevante.